meccano parte seconda puleggie allora tramite una striscia di legno questa è samba con le sega a tazza fatto dei cerchi e poi ho incollati con questo questa barra filettata che poi utilizzo per metterla nel trapano e dargli la tornitura laggiù il trapano faremo una tornitura delle due puleggie la tornitura abbastanza semplice insomma giusto per rare pareggiare il tuo qua il legno di samba quando si lavora molto tenero e facile da lavorare siamo un odore un po strano ricorda un po vespaciano diciamo particolare ora come al solito si sarà creata un'impannatura dentro andiamo a tirarle fuori sulla morte a Grazie a tutti. Meccano, pulegge, Meccano parte seconda, pulegge, ecco qua, fatte anche i pulegge.